Gli itinerari della bellezza dei 25 comuni della provincia di Pesaro Urbino, promossi da Confcommercio Marche Nord, trovano una loro nuova declinazione costiera, quella della bellezza in blu, vale a dire la qualità dell'offerta balneare che corre nei 40 chilometri che uniscono Gabiccia e Marotta passando per il San Bartolo e le spiagge di Pesaro e Fano. Proprio la Confcommercio di Fano ha tenuto a battesimo questa mattina la nuova brochure promozionale che arriva dopo giorni di press tour in cui Confcommercio ha ospitato la stampa specializzata nazionale alla scoperta delle nostre località costiere e della loro tradizione marinara. 40 chilometri di spiaggia che rappresenta un'unicità, un'opportunità unica per i turisti perché abbiamo le spiagge adatte ai bambini, i bassi fondali, la sabbia, abbiamo le spiagge sassose, i litorali sassose, abbiamo il parco regionale del Monte San Bartolo con le sue calette, con la baia di Vallugola, quindi abbiamo un'offerta balneare molto importante. Non era mai stato fatto una brochure, un depian che contenesse insieme le quattro località balneare. Ogni comune aveva o ha il proprio depian, ma presentare nei mercati nazionali e internazionali l'offerta balneare della provincia di Peso Urbino unitariamente non era mai stato fatto. Noi abbiamo deciso di fare uno strumento snello, smart come si dice oggi, da presentare ovviamente già in distribuzione negli uffici IAT, ma la cosa più importante è che sarà distribuito in tutte le fiere nazionali a cui noi parteciperemo, a cominciare dalla fiera del turismo UNESCO di Genova, al TTG di Rimini, alla fiera di Pestum e tutte le altre iniziative a cui Confcommercio sarà presente per l'itinerario della bellezza. E poi c'è la qualità proposta a tavola dalla nuova edizione dei week gastronomici da mare che partono in questo mese di luglio in 19 ristoranti, ben 14 dei quali a Fano. I ristoratori fanesi, i ristoratori piesaresi, poi abbiamo Castel di Mezzo, Gradara, tutta la nostra costa, la maggior parte della nostra costa ha aderito a questa iniziativa che ogni anno vede crescere sempre di più il coinvolgimento. L'iniziativa è stata pensata per luglio e settembre, proprio perché agosto generalmente c'è il fermo pesca, ma non solo, quest'anno si è allargata perché è vero che si chiama weekend a mare, ma ci sono anche dei prodotti di carne perché devono caratterizzare ogni locale e quindi ogni locale ha aderito con un menù pensando a un cliente e a un turista che viene per fargli sentire dei piatti tipici del proprio locale. Un range di prezzo, ma non c'è un prezzo fisso per tutti, che è fondamentale perché comunque ogni ristorante è a sé, ogni ristorante ha la sua caratteristica e ogni ristorante propone anche un piatto e un servizio diverso e ognuno ha piacere anche di vedere come voler spingere insomma il proprio menù.